Allora, questo è uno dei video in cui mi avete richiesto almeno un paio di anni fa considerato che comunque a me piaceva moltissimo viaggiare e questa volta invece vado insieme ai miei, a mamma e papà, a Barcellona come se non ci fossi già andata nell'arco di tutta la mia vita comunque oggi vi faccio vedere come ho intenzione di fare la mia valigia per questi 4 giorni che sarò a Barcellona vi faccio vedere subito la mia valigia allora, praticamente la valigia è questa ed è di segue molto carina, adesso qui segue non ce l'abbiamo più a Cagliari ma penso che abbia chiuso per tutto comunque è molto carina perché è rossa, è il mio colore preferito e poi è super pratica allora, io la prima cosa che solitamente metto in valigia sono comunque le cose che sono un pochettino più ingombranti e soprattutto le cose più pesanti considerato che stavolta io non andrò a prendere delle cose pesantissime quindi inizierò comunque a mettere dei vestiti allora, le cose che metterò sono questo vestitino qua molto carino, ho scoperto praticamente che ci sono 28 gradi a Barcellona, quindi lo metto in questo modo qua poi quest'altro vestitino troppo bellino di Bershka, lo stesso qui ho tutti vestiti praticamente di Bershka e lo metto esattamente nello stesso modo poi andrò a metterne uno che è questo qui sempre di Bershka ed è lungo lo voglio portare vicino per questo perù, soprattutto anche per le serate se dovessi fare un pochettino a petto freddino questo poi anche lo spacco da una parte comunque tutti abbastanza floreali i vestiti e poi come vestito un attimo più elegantino questo qua, sempre di Bershka quindi vestiti tutti di Bershka devo dire e lo vado a mettere nello stesso identico modo quindi comunque occupano veramente pochissimo spazio e soprattutto sono vestiti e non pesano niente allora per quanto riguarda le scarpe io ho deciso di portare queste qui perché sono le più leggere che ho prima di tutto e poi perché sono anche le più comode quindi le metto in questi appositi contenitorini di scarpe le chiudo e le vado a mettere ai lati da una parte e dall'altra quindi in questo modo allora poi ho anche una mutanda praticamente per giorno quindi le distribuisco lo stesso anche queste ai lati ecco qua poi per quanto riguarda invece i beauty e la roba comunque per la doccia ho preso questo questo è del Milan ho preso da papà con un po' di tutto ho preso lo shampoo il piccolino quello delle Bershka il mi si chiama il deterante piccolino della Nivea questo comunque per l'igiene intima questa è una crema all'aloe vera io la uso anche per il viso comunque non sono riuscita a vederla bene spero di sì questa è una crema invece per il corpo e poi qua all'interno c'è anche lo shampoo secco che lo uso probabilmente d'estate e poi lo struccante lo struccante questo qui della Lancome qui ho un camouflage e poi la tachipirina non si sa mai che non mi senta bene allora questa io solitamente la metto qui perché? perché comunque è possibile che me la diciamo di togliere nei controlli e quindi la tengo a portata di mano piccolino ho ovviamente i lentifrici insieme allo spazzolino qua e anche questo lo metto lo stesso qua all'interno ho già la sua bocettina queste che sono le infradito per quando faccio la doccia lì e le metto direttamente qua perché le ho appena lavate quindi sotto non riesco di rovinare nulla allora a parte che mi porto sempre una rivista comunque in viaggio stavolta mi porterò cosmopolitan questa qui e mi pare di luglio sì però dovrò uscire anche quella di agosto ma le porto sempre delle riviste poi prenderò le salviettine sul canti anche queste è una delle ultime cose che metto e poi questa mini cosciettina con tutto il trucco necessario in viaggio e vi dico subito che cosa utilizzo io per solitamente in viaggio allora il pennellino Kabuki che è questo qua è di della Essence questo e mi ci trovo veramente bene per applicare il blush di blush mi porto sempre questo qui che è dell'H&M Pink Coral il numero cioè il colore scriviamo così poi mi porto una matita automatica nera questa qui è quella della Essence la solita che utilizzo sempre poi prendo un ombretto in crema della Kiko io porto questo qui bellissimo che è il numero 05 è troppo bello mi piace un sacco questo ed è veramente super pratico soprattutto d'estate poi mi porto il mascara prendo questo qui ciglia finta effetto farfalla anche se vi dico la verità io ho anche questo qui molto piccolino troppo carino della Yves Rocher infatti mi porto anche questo tanto è molto piccolo che non mi dà problemi e comunque è perfetto sempre come mascara poi mi porto il camouflage della Essence con i due colori più scuri e più chiaro per come copri occhiaie e come trucchi oltre a questi poi mi porto il mio eyeliner della Essence e poi mi porto anche queste qua che servono sia per le sopracciglia che per le ciglia comunque per pettinarle quindi queste sono le cose che mi prendo io di solito e come aggiunta a questo sicuramente prenderò questo qui della Rilla Steele che è un campioncino piccolino è antirossore quindi solitamente magari per la pelle un pochettino stressata lo utilizzo poi per quanto riguarda invece le imprecisioni diciamo della pelle porto anche la mia crema della Garnier questa qui che è super 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 idratante è la BB Cream con la quale praticamente non uso nessun tipo di fondotinta d'estate e utilizzo solamente questa quindi perfetto per quanto riguarda invece i rossetti io solitamente vado sempre con uno o due rossetti quindi anche quelli li scelgo all'ultimo anche quelli ve li dico direttamente all'ultimo comunque in una bustina così piccolina riesco a metterci tutto questo mi mancano solamente i dischetti struccanti da mettere nient'altro ecco qui ho deciso anche cosa prendere con quelli rossetti ho deciso di portare questi due uno è sul rosso ecco qui è del ECHNM il numero 400 no numero 035 e poi questo qui che è di Piazza Italia ho comprato l'anno scorso con il quale mi trovo veramente bene anche per il colore veramente bello ed è questo non c'è più il numero purtroppo comunque è della marca Clodi quindi mi porterò questi due in viaggio per quanto riguarda invece la borsa ho deciso di portarmi questa perché? perché è carina super pratica ci sta bene un pochettino con tutto per quanto riguarda i vestiti che ho scelto quindi adesso vi dico che cosa mi porto allora mi porto sicuramente l'occhi assolutissimamente l'occhi perché è sempre super super importante poi mi porto questo campioncino di profumo il mio è della Jimmy Choo me l'hanno dato da poco dalla Sephora ed è così e io oltre a questo qui di campioncino mi porto anche questo qua di Stradivarius le cose che metto solitamente sono questo bellissimo io ho proprio messo innamorata è un portafoglio ed è praticissimo perché alla fine metto all'interno le monette e poi da questa parte ci metto tutto il resto le carte di peto patente e tutto ed è perfetto comunque per andare in viaggio perché è piccolino solitamente lo metto all'interno della borsa c'è sempre una fasca interna e ce lo metto lì così sono anche più tranquilla devo dire la verità poi porto sempre il mio burro cacao prendo sempre questo della bello alla ciliegia uno specchietto con quello che ingrandisce e poi quello diciamo lo specchio normale poi una penna non si sa mai gli occhiali da sole io porterò questi che avevo preso da Stradivarius troppo carini poi mancabili Timome chewing gum i fazzoletti io ho questi qua e poi il resto appunto come vi ho detto prima metterò Cosmopolitan oltre a questo metto sicuramente anche il ovviamente il biglietto dell'aereo e poi questo magnifico bastone da selfie l'ho usato veramente poco però per i viaggi ci sta poi ovviamente metterò la GoPro dentro e la videocamera che ce l'avete esattamente lì quindi queste sono le cose che metto solitamente nella mia borsa o comunque borsone borsetta da viaggio ovviamente tutto questo mi sono dimenticata di dirvi le ultime cose che ho messo in valigia le salviettine struccanti alla fine sto mettendo queste qui che sono piccoline quindi le metto qua poi mi sto portando un reggiseno in più a parte quello che ho indosso poi mi sto portando questa spazzola bellissima che districa i nodi in una maniera bellissima e poi mi sto portando il caricabatterie portatile del telefono io l'ho preso all'uni euro questo mi ci trovo molto 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 bene con il caricabatterie anche diciamo del caricabatterie insomma quindi queste sono le cose che non vi ho detto che ho portato e poi il pigiama e poi il pigiama io sto portando questo qua che era di C&M eccolo qui quindi molto estivo alla fine su questo colore qui e come vedete la mia valigia è molto vuota domani devo mettere solamente i cavi delle caricatterie del telefono della GoPro della videocamera e poi dovrò mettere solo la mia bustina dei trucchi per il resto la valigia è terminata allora come il solito il giorno dopo ho iniziato a fare delle modifiche alla mia valigia nel senso che ho tolto un vestito e ne ho messo un altro ho messo questo qua che mi avete visto in uno degli scorsi video di outfit e sto mettendo questo qui che ho preso da Louise che poi me lo vedrete sicuramente nel video vlog quindi metto questo e la mia valigia è praticamente pronta mi manca solamente il beauty dove ho i trucchi che metto per ultimo però come vedete è abbastanza vuota anche perché siamo ad estate quindi uno mette veramente poca roba e soprattutto posso avere la possibilità di comprare più roba sinceramente e questo mi rende tanto 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 felice che